Ah! Lasciati purificare! Fa troppo caldo qui dentro. Devo spegnere le piante. Non puoi sboggermi! Non uscirai vivo da qui. Mi ha ordinato di occuparmi di te. Puoi scegliere. Morire o cambiare, come me. Si, padre Diodo. Nelotte! Non sono più debole, Sebastian. Non mi sconfiggerai. Basta correre. Mi dispiace, maestro. Non mi fuggire. Lo prometto! Ci vuole ben altro per fermarmi! Lascia che le fiamme si consumino. Ora ne ho davvero abbastanza di te. Sì, padre Diodor. Gliel'ho detto! Corri finché muori. Non uscirai vivo da qui. Non sono più debole, Sebastian. Non mi sconfiggerai. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto! Pensi di essere migliore di me? La pagherai per questo! Lascia che le fiamme ti consiglio. Che è successo?